Cade sulla strada deformata e rimedia due mesi di prognosi. La disavventura è capitata a una donna sulmonese di mezz'età, residente in via Papa Giovanni XXIII, che nei giorni scorsi si è resa protagonista di una rovinosa e rocambolesca caduta nell'arteria in questione per via delle radici degli alberi che hanno deformato il manto stradale e hanno danneggiato anche il garage di sua proprietà. Un problema annoso, più volte denunciato dagli abitanti del quartiere, con le cadute libere che sono diventate quasi una routine. L'altro giorno è toccato un sulmonese, mentre la donna in questione ha rimediato la frattura del polso e ne avrà per almeno 60 giorni. Aiutateci, vi prego, non ne possiamo più, tona la malcapitata. L'incubo dovrebbe finire a breve, poiché lo scorso 2 settembre il Comune ha dato incarico all'architetto Antonio Angelone di riqualificare il viale. L'intervento era a 280 mila euro inserito nel piano triennale delle opere pubbliche su indicazione dell'assessore comunale oscente Salvatore Zavarella prevede una vera e propria trasformazione del viale con il ripristino della pista ciclabile che sacrificherà i parcheggi a un lato della strada, interventi sul manto stradale, introduzione e sostituzione del viale alberato, un sistema di illuminazione a terra, una piazza nello slargo alla fine della strada che si va a collegare con il viale. Qui ci saranno chioschi e giochi per i bambini, mentre con una conversione dei locali sfitti e con l'ottimizzazione degli spazi si punta a creare anche dei piccoli salotti per concerti e aperitivo all'aperto. Una sorta di cittadella nella città, il viale dei sogni per dare un nuovo volto al quartiere di nessuno che versa tuttora in un degrado inaccettabile. L'auspicio però da parte dei residenti è che questa sia davvero la volta buona perché le cadute libere vanno avanti.